Vacanza low cost in Grecia quest'estate? Attenzione a non sbagliare isola! Se stai pensando a Santorini, non andrai né per spiagge né per discoteche preparati invece a tramonti e scenari romantici e instagrammabili. Stai guardando i voli per Mykonos? Tieniti pronto a ballare e fare festa fino alle prime luci del mattino e innamorarti del mare cristallino e delle sue spiagge bianche. Anche Zante regala emozioni uniche, conosci la spiaggia del relitto, davvero instagrammabile. È stato il mio viaggio di maturità, sette giorni, vida loca e spiagge di sabbia bellissime. E l'anno dopo sono partita per Corfu, un'isola divisa tra storia, spiagge e un po' di sassi e un po' di sabbia e festa.